Il Business Game di quest'anno ha coinvolto 254 squadre degli istituti superiori di tutta Italia, l'ultimo biennio, il quarto e quinto della secondaria di secondo grado. I ragazzi si trovano a gestire un'azienda che produce biciclette elettroniche e il focus quest'anno è stato molto alto sulla questione del risparmio energetico perché ci ha sponsorizzato Sorgenia e quindi abbiamo riadattato il modello sull'attività produttiva di un'azienda che appunto avesse a che fare anche con il risparmio energetico.